Ho deciso di iscrivermi al corso Paziente esperto opati perché sono un paziente cronico di asma e di endometriosi e perché sono presidente di Federasma e Allergie ODV. Ho reputato importante, soprattutto dopo il periodo del Covid, poter avere accesso ad una lente, una lente che mi permettesse di saper leggere le informazioni che mi venivano fornite perché durante questi due anni siamo stati bombardati da informazioni, abbiamo assistito alla presenza di chiunque che riusciva a disporre la sua opinione. Ebbene, io non riuscivo a farlo e né tantomeno riuscivo a fare una selezione delle informazioni a cui avevo accesso. Quindi ho reputato necessario poter cercare di intraprendere questo percorso per avere le lenti giuste per leggere le informazioni che mi venivano sottoposte e avere una mia opinione. Penso che quando uno frequenta un corso deve far suo quello che impara e soprattutto lo deve condividere. Come farlo? Oggi come oggi abbiamo accesso a tantissimi strumenti. Il tema è fare selezione di questi strumenti e cercare di farlo in maniera tale che il paziente, un altro paziente, il caregiver o chiunque sia curioso di apprendere delle informazioni maggiori e sappia che quella fonte è certa. La veridicità della fonte e la possibilità di poter spiegare con parole semplici anche a chi non è tecnico del mestiere, magari parlare la stessa lingua e non lasciare questo spazio di asimmetria informativa è fondamentale e spero insomma alla fine di questo corso di poterlo fare tra i miei associati e in Federasma o con chiunque mi chiederà un supporto.